Samuel Stern, numero 46. Samael. Parliamo di questo numero e della maledizione di questo numero. Sigla. Bentornati su No Mammazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Stern della Bugs Comics. Oggi sono con voi per parlare del numero 46, dal titolo Samael, titolo quasi omonimo che fa riferimento al nome che, diciamo, la parte demoniaca di tutta questa combricola che leggiamo da 46 numeri chiama Samuel Stern. Non è la prima volta che noi sentiamo pronunciare, anzi, vedere per iscritto questo nome. È già stato pronunciato, se non sbaglio, nel Il Rito, che è qualche numero fa, e qua viene, diciamo, esplorato questo concetto. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace anche a questo video e anche a tutti gli altri. Di condividere il video con tutte le persone che amano il mondo di Samuel Stern, il mondo dei fumetti italiani, il mondo dei bonelli, in generale il mondo nerd, e di commentare qui sotto, con quello che viene parso di questo video e di questo numero, ovviamente. Sono molto contento perché, purtroppo, a metà anno ho avuto un grosso calo di iscritti, che probabilmente erano dei bot, però tant'è che YouTube ha fatto polizia, e in poco tempo li ho recuperati con iscritti veri. Si si presume. E quindi sono molto contento. Continuiamo così, andiamo, cerchiamo di fare cifra tonda, magari di arrivare a 3.000 iscritti. Ciò che la strada è lunga, però. Io ci spero. Tornando a noi, tornando a Samuel Stern, una delle rubriche più amate del mio canale, forse non quella più seguita a livello di numeri, dato che di numeri stavamo parlando poco fa, però sicuramente una di quelle dove gira attorno un po' più, eh, un po' più di collaborazioni, eccetera, eccetera. Io ho sempre adorato Samuel Stern come testata, mi piace la sua continuity orizzontale, che purtroppo non trovo in Dylan Dog, e questo mi permette di avere dei fantastici picchi di numeri a trama verticale di Dylan Dog, per una persona come me che viene da Marvel, che comunque ama un certo tipo di trama orizzontale, non trovarla mai è molto brutto. Samuel Stern va a tappare questa lacuna nel fumetto italiano, dandoci una grande continuity orizzontale anche in un fumetto horror, in un fumetto che parla di sovrannaturale, eccetera, eccetera, che parla di possessioni demoniache in questo caso. Ogni tanto nella storia di Samuel Stern ci sono appunto dei numeri come questo, dove fondamentalmente la trama verticale viene quasi completamente lasciata perdere per congiungere al meglio la grande trama orizzontale, il grande disegno che hanno in mente i creatori di Samuel Stern, che sono Gianmarco Fumasoli, che è anche l'editore di Bugs Comics, Massimiliano Filadoro, che è, se non sbaglio, il curatore di Samuel Stern in questo momento, come carica, esatto, e di Marco Savegnavo, Marco Savegnago, scusate, che è appunto la terza punta della Trinità che ha contribuito a creare Samuel Stern. E questo numero è proprio ad opera delle loro mani. Per quanto riguarda invece i disegni sono di Antonello Catalano, che vorrei chiedere a voi se aveva già disegnato per Samuel Stern, perché a volte nell'editoriale c'era scritta questa cosa, invece qui sia l'editoriale, sia il dove eravamo rimasti e ovviamente anche gli appunti dal Derryling sono totalmente dedicati, diciamo, alla storia passata e presente e anche futura, quello che ci aspetterà. Però non si fa nessun accenno al disegnatore, ecco, secondo me Antonello Catalano, a me sembra, non lo so, mi sembra o nuovo, o comunque sono dei tratti di disegno particolari che non so, non lo riesco ad associarli ad altri numeri di Samuel Stern, quindi ricordatemelo voi, grazie mille. I disegni di questo numero di Samuel Stern mi piacciono molto in alcuni tratti e per nulla in altri, per esempio c'è un primo piano di Angus, a pagina 8, che non sembra Angus, anche se immagino che l'intenzione fosse quella di dare uno sguardo perso nel vuoto, una persona che era sorta nei propri pensieri. A pagina 10 c'è un primo piano di Samuel, che sembra, non lo so, molto più vecchio di quello che dovrebbe essere, e così via. Allo stesso tempo ci sono dei giochi di luci ed ombre, o altri stessi primi piani, come quello a pagina 14, sempre di Samuel Stern, o quello di pagina 16 di Samuel Stern, che sono fantastici. E quindi, non lo so, sono un po' combattuto da questo punto di vista sui disegni, ma purtroppo... Non avevo ancora guardato... 20 minuti che non guardo in camera, scusate, ma purtroppo, stavo sfogliando e ammirando i disegni, ma purtroppo sono ancora più confuso per quanto riguarda questo numero. Perché io l'ho aspettato tanto, dallo stesso nome del numero, no, Samael, pensavo che ci sarebbero state grosse rivelazioni a riguardo che avrebbero spalancato le porte dell'inferno, di questa testata, e in un certo senso sì, lo hanno fatto, però mi sembra un numero... Avete presente quando a volte vi dico Ah, questo numero avrebbe meritato 10 pagine in più, avrebbe meritato 20 pagine in più, sarebbe stato completo, sarebbe sembrato meno tronco? Ecco, questo numero, secondo me, è molto diluito. È diluitissimo. Ci sono delle tavole all'inizio dove, secondo me, davvero si perde tempo a fare un dramma, una telenovela spagnola su quello che Samuel ha scoperto da una foto, non arrivando mai al dunque. Ora, io capisco che il tentativo fosse quello di creare del pathos, ma in realtà non succede questo. Cioè, io sto sfogliando di nuovo, fino a pagina 18 non si dice niente. Niente. Cioè, semplicemente c'è Samuel che chiama raccolta tutta la gang, è arrabbiato con Angus perché gli ha nascosto delle cose, e parlano di sta cazzo di foto, che abbiamo visto nel numero scorso, ma non si arriva mai a un dunque. Madonna mia, anche Penny in alcune inquadrature sembra su zia. Vabbè. Non si arriva mai a un dunque. Quando si arriva a un dunque, appunto, si capisce un attimino qualcosa che... Samuel capisce un attimino qualcosa che noi avevamo già capito, ovvero che Angus Daryling è coinvolto in qualcosa, ha nascosto qualcosa a Samuel per molto tempo, cosa che avevamo già intuito da un altro numero, quello dove io avevo scritto non mi fido più. Che alcuni di voi avete detto, è un titolo clickbait, sembrava che non ti fidassi più della testata, invece non ti fidi più di Angus. Quel numero, per intendersi. Qua si va a scoprire, appunto, perché ci sono dei flashback, ci sono dei flashback di Samuel, ci sono dei flashback di Angus. Qua si va a scoprire che Angus ha dei poteri che manco ci sognavamo. Cioè qua si scopre che Angus ha delle, anche lui ha delle visioni, delle vaghissime visioni rispetto a quelle di Samuel, che addirittura lo portano, non dico a riscrivere la struttura della realtà, ma lui quando, appunto, quando scrive, lui, diciamo, veicola queste visioni e invece che vederle, le crea. Un po' come se fosse, appunto, una persona esterna a questo mondo, come se fosse il creatore del mondo di Samuel, che si trova all'interno della storia. Un po' come, appunto, se fosse Massimiliano Filadoro, perché noi sappiamo che Angus è un pochino la figura più vicina a Massimiliano Filadoro per stile, per stile di quello che vuole narrare. È come se fosse Massimiliano Filadoro all'interno della storia, come se fosse una persona che ha il potere di plasmare la realtà attorno a lui e che si trova coinvolto al suo interno. E soprattutto c'è un plot twist finale, non sto a lesinare sullo spoiler perché, come avrete notato, è il 13 settembre, questo numero è uscito il 28 agosto, io ci ho messo una fatica del diavolo, e da qui la maledizione del numero 46, a trovarlo ho passato 4 edicole per trovare questo numero, quindi lo sto leggendo, lo sto recensendo con estremo ritardo, e quindi chi se ne frega dello spoiler, eh. Insomma, nel finale di questo video, di questo video, scusate, di questo fumetto, si scopre appunto che Angus ha un potere anche sulle vite di Samuel. Samuel, scopriamo che c'è un manoscritto sulla vita di Samuel Stern che in un certo senso ha sovrascritto quello che è successo davvero alla sua storia, questo grazie al potere di Angus. Ora, Angus ha un potere davvero enorme, cioè è diventato un personaggio OP, cioè overpowered come si direbbe in altri contesti più giovani, in contesti videoludici, in contesti di anime e manga. In questo numero, Angus è stato overpowered, ed è una cosa che non gradisco assolutamente, è stato overpowered ma soprattutto tutta questa realtà su Angus lo fa diventare un personaggio totalmente diverso e dopo 46 numeri, onestamente non è una cosa che sto gradendo, non è una cosa che gradisco. Insomma, è come se dopo 46 numeri di Dylan Dog scopriamo che l'ispettore Block è stato da sempre il padre di Dylan Dog. Cioè, sto facendo degli esempi a casissimo, eh. Che fosse stato da sempre il padre Dylan Dog che l'avesse abbandonato all'orfanotrofrio e avesse inventato tutta la storia di Xabaraz per coprire che lui l'ha abbandonato. Da un matrimonio precedente con Morgana. Cioè, siamo più o meno al livello a questo. Io non voglio scoprire dopo 46 numeri che un comprimario di questa testata è totalmente un'altra persona, non è una cosa che mi piace, mi destabilizza e non in modo carino, non è un plot twist carino ma è un plot twist appunto da telenovela dove le carte in tavola si cambiano drasticamente ed è un peccato secondo me. Però appunto andremo a vedere cosa ci aspetta nel futuro. Si scoprono anche altri personaggi che per carità lì invece nulla che ci possa stupire. Appunto c'è una parte della chiesa dedicata appunto a, come si dice, all'inquisizione. Quindi come se l'ala dell'inquisizione della chiesa non fosse mai stata estinta e avessero continuato appunto a epurare eventuali anticristo. E qua scopriamo anche che Samuel Stern sarebbe stato uno di questi. Un'altra cosa che non mi è piaciuta di questo numero, non è tanto il discorso Angus che vabbè per carità poi lo vedremo nei prossimi numeri, ma che in questo numero tutte queste rivelazioni vengono semplicemente dette in continuo, viene detto a questa cosa, viene detto di Angus, viene mostrato tutto il retroscena di padre Cornelius che c'è tipo una comune con degli ex bambini anticristo che sono lì come in una fattoria dove gli animali vengono salvati invece che mandati al macello, ma non succede nulla, non succede niente di davvero importante. Cioè piuttosto dammi un po' di verticalità in questo numero. Fammi scoprire che ok, Samuel doveva essere un ipotetico anticristo per risvegliare l'apocalisse, fammi assaggiare qualcosa in questo numero, invece no, da qua ci si sposta verso gli altri bambini, si racconta appunto di questo ruolo, di questi guardiani dell'inquisizione, pare che i guardiani dell'inquisizione abbiano messo un GPS sull'auto di padre Duncan e stanno arrivando in questa fattoria di anticristo dove c'è ancora re di vivo padre Cornelius, però di fatto in questo numero non sta succedendo niente e mi sarei aspettato una parte uno di due, ma nel prossimo numero il titolo è Il Cavallo Nero. è Palese, che è un sequel dalla copertina, perché c'è Samuel in un bosco che si sta rifugiando da degli occhi luminosi, è palese, cioè ha una copertina molto simile dove appunto il logo è in semitrasparenza, però qui è rosso, di là è blu, penso sia anche una citazione a quando c'è stato Abisco, dove c'era padre Duncan e, adesso non mi ricordo il titolo del numero prima, ma erano due numeri che sancivano la fine di una stagione, o l'inizio di quella nuova, che dir si voglia, però il titolo non mi dà da pensare che sia un sequel, quindi chi lo sa, spero che ci saranno più risposte nel prossimo numero, perché questo numero da solo non riesco a valutarlo, se non in maniera non positiva. Aggiungo un'altra nota ancora, che non mi spiego, in uno dei tanti flashback di questo numero, il terzo flashback che appunto è un racconto di padre Cornelius, o di Cornelius dato che non è più padre, vediamo che gli adepti di questa setta che stavano per consacrare Samael al demonio, prima che lo salvassero, che cazzo sono? Cioè io presumo siano degli incarnati, perché sappiamo che i demoni non possono vivere esternamente all'uomo, sappiamo che quando la possessione demoniaca è completa ci sono, non lo so, dei demoni, ma di fatto hanno l'aspetto umano, quando invece si sta cercando di far uscire il demone, ma il demone si ferma a metà e con qualche rituale strano si creano gli incarnati, questi però sembrano dei vampiri, né più né meno hanno delle unghie molto affilate, hanno dei canini molto affilati, ma non hanno le vene che pulsano, le vene nere che pulsano come gli incarnati, sembrano in tutto e per tutto dei vampiri e non li abbiamo mai visti prima d'ora, quindi non riesco a capire cosa devono rappresentare, se è qualcosa di nuovo che dobbiamo ancora di nuovo, in realtà di vecchio perché è un flashback, però qualcosa che verrà esplorato più avanti e se è così perché l'hanno accennato senza troppe spiegazioni, io avrei preferito piuttosto che fossero stati degli esseri umani, poi questi li ammazzano sangue freddo, questi qua della chiesa cattolica, e quindi ha senso che siano dei demoni, però questo aspetto vampiresco non c'entra molto con la mitologia sterniana e spero la spieghino più avanti, poi c'è il discorso delle apocalissi personali che sono diverse dall'apocalisse con la maiuscola, che sono delle rivelazioni che io tuttora fatico a capire, è un concetto molto filosofico che può andare bene in un libro, ma in un fumetto secondo me non va molto bene, mi spiace, e quindi non so, vedremo cosa ci darà il prossimo numero, vediamo perché hanno coinvolto anche qui dei bambini degli anticristo, vedremo, si pare che questa sarà una stagione di rivelazioni per l'appunto di apocalissi per Samuel Stern e che durerà 12 numeri, quindi nei prossimi 12 numeri verrà rivelato tutto ciò che è dietro, tutti i retroscena di Samuel Stern, che sia il preannuncio di una chiusura di Samuel Stern, cioè che svuotino tutte le carte in tavola per chiudere la testata, quantomeno per dargli una fine e eventualmente continuare con nuovi argomenti non correlati, cioè per dare un nuovo inizio fresco per nuovi lettori, mi viene da pensare, potrebbe essere così, oppure che hanno finito, cioè le storie che devono raccontare finiranno tra 12 numeri e le pubblicano e poi si vedrà, altre ipotesi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, scrivetemi qua sotto cosa ve ne è parso del percorso che ha avuto Samuel Stern finora e se pensavate che sarebbe stato diverso rispetto a come siamo arrivati adesso. Io vi ringrazio per avervi seguito fino alla fine del video come sempre, con l'inchino e con l'ambuto, vi saluto e vi dico arrivederci, al prossimo video!